Benvenuti in questo nuovo video di In questo video vedremo come scaricare un video da Instagram e salvarlo sull'iPhone La prima cosa da fare è aprire Instagram e andare sul profilo che contiene il video che ci interessa Clicchiamo sul video Clicchiamo sui tre puntini in alto E selezioniamo copia link Dopo che avremo ricevuto il messaggio link copiato negli appunti apriamo Safari E andiamo sul sito insta-downloader.net Slash Instagram trattino video Incolliamo il link che abbiamo appena copiato E clicchiamo sul tasto download video Verrà caricata una nuova pagina Con un altro tasto download video che ci permetterà di scaricare questo video Clicchiamo quindi di nuovo su download video E possiamo vedere adesso il video che abbiamo appena scaricato Possiamo in alternativa tenere premuto sul tasto download video Selezionare condividi e cliccare su salva su file In questo modo possiamo salvare il nostro video Grazie per aver seguito questo video E ci vediamo nel prossimo